Ciao, allora è finita veramente, adesso cercate di andare, dove cazzo state lì? No, no, voi adesso vi girate, tutti assieme vi girate e andate a spargere il verbo. Ciao bambino, quanti anni hai? Otto. Sei preoccupato per il tuo futuro? No, non preoccuparti, non ce l'hai. Ciao di nuovo e grazie, loro sono i candidati alla regione Sicilia, li presentano, sei di colore. Benissimo, ciao a tutti e grazie, arrivederci. Ciao, vai con la musica finale, metti quello che vuoi.